Ben ritrovati ragazzi, un saluto dal vostro Perlin, un saluto da Scarlett Oggi siamo qui riuniti, con fratelli, no a parte gli scherzi, oggi siamo qui riuniti come avete potuto vedere dal titolo del video per fare dei ringraziamenti al nostro primo vlog e per un giveaway Ora, i ringraziamenti in primis li faccio a voi, che ci avete sostenuto col primo video in maniera veramente positiva e non ce lo aspettavamo Tant'è vero che non ci aspettavamo neanche due sere dopo che abbiamo pubblicato il video, che io ero dal caro Yuri Zoroldan che salutiamo Eravamo andati a trovarlo e dopo che siamo tornati dalla scena mi sono trovato una mail sul canale del canale e ho visto che mi chiedevano la partnership perché il video che avevamo fatto stava andando molto bene anche come primo video e riguardava un gioco che sia in Italia ma soprattutto all'estero e in America sta vendendo un botto Quindi abbiamo avuto questa partnership un'aspettata e il secondo ringraziamento quindi lo faccio a GmxElite che ci ha dato la partnership Risalutiamo pure lui E quindi niente, è capitato così velocemente tra capo e collo Quindi abbiamo deciso di fare questo vlog per ringraziarvi e darvi un premio, un qualcosa per averci sostenuto E qui passo la parola a Scarlett Allora, prima di tutto ci teniamo a dirvi che stiamo per preparare il video di presentazione del canale che purtroppo non abbiamo avuto modo di postare, proprio di fare perché tra impegni di lavoro suoi, che infatti lunedì non ci sarà, che parte avrò un press tour a Londra quindi non lo vedo, io non ho approfittato per tornare a Roma quindi siamo un po' incasinati in questo periodo non siamo riusciti a fare il video di presentazione del canale però vi possiamo anticipare immediatamente che stiamo per caricare due nuovi unboxing Uno caricare, uno dobbiamo farlo Sì, lo dobbiamo fare, sì, tra poco anche quello e il prossimo mese invece avremo tante novità appunto, cominciamo ad affrontare giochi nuovi dal solito Disney Infinity che per quanto è carino eccetera eccetera però come immagino vi possiate rompere voi a vedere sempre lo stesso gioco anche noi a presentare sempre la stessa pappardella può risultare lunga e pesante quindi appunto ci saranno novità e una di queste è il giveaway che vi mostriamo invece in questo video qui adesso Perrin vi spiegherà come funziona il nostro giveaway Esatto, prima vorrei fare una piccola parentesi che uno di questi due unboxing che caricheremo tra il 18 e il 19 perché io il 16 e il 17 sarò a Londra tornato dovrò fare dei magheggi, correre delle parti ringrazio anche un mio amico che spero mi vedrà il video che è Gioppo perché è lui che ci dà la possibilità di farlo perché io essendo a Londra non posso andare a prendere questo oggetto che in tanti bravano e che è una collector che è praticamente introvabile perché ci sono stati dei rettoscena particolari è una collector che esce il 16 o il 17 sta a capire che gioco può essere chissà quale sarà sto gioco tanto atteso che esce il 16 o il 17 quindi, piccola parentesi questo sarà l'unboxing che poi andremo a caricare io farò distrutto probabilmente perché lo farò la stessa sera per poi caricarlo il giorno dopo tornando alla questione principale giveaway, come funziona? allora, il giveaway noi abbiamo tre premi da dare come si fa a partecipare? allora, chi è già iscritto basterà che fa un commento con voglio partecipare chi non è ancora iscritto semplicemente dovrà iscriversi e scrivere nel commento partecipo, voglio partecipare partecipo anch'io fate bobbis in più l'altra cosa che sarà particolare è che questi premi riguardano Disney Infinity per adesso poi faremo altri contest altri giveaway ogni volta che c'era qualcosa di importante adesso non voglio dirvi niente perché abbiamo già qualche progetto però potrebbe esserci qualcosa come Watch Dogs potrebbe esserci qualcosa come Assassin's Creed 4 cioè stiamo proprio facendo una cosa molto in grande tra l'altro metto un'altra piccola parentesi un'altra piccola postilla perché come avete visto nel video di Yuri io sono l'uomo delle parentesi c'è un progetto non vi posso dire che cos'è un progetto che abbiamo creato di cui gli ideatori siamo io e lei che racchiuderà cosa posso dire senza spoilerare troppo racchiuderà praticamente tre youtubers molto importanti molto famosi e vi posso dire non vi posso dire chi sono da uno andremo il mese prossimo a trovarlo e a fare quindi sarà subito sgamato si primi di ottobre primi di ottobre andremo da lui che presenterà anche lui questo progetto ma vi posso dire se volete per darvi un indizio vi do le tre ragioni di queste tre persone allora una è la Lombardia che poi Lombardia diciamo alta vai quasi Svizzera stiamo vabbè così l'abbiamo detto no vabbè ci stanno un sacco di gente che sta sul confine eh sì però seguendo noi vedendo noi vabbè fate fitta che io non abbia detto nulla sta in Lombardia poi l'altro sta in Piemonte qua città ma soprattutto l'ultimo e soprattutto qua strazetta sta in Veneto ecco Veneto dice qualcosa ok la persona che riguarda il Veneto la vedrete la settimana la settimana prossima no la prima settimana di ottobre penso le prime settimane di ottobre ci dobbiamo sentire per telecom d'accordo perché lui no no non lo dico se lo dico capite chi è comunque a parte sta grande parentesi questo è come ripeto come si partecipa al contest è iscrizione partecipo o chi è già iscritto partecipo altra cosa importante arrivati a 15 partecipanti il contest parte il giveaway parte se non arriva almeno a 15 partecipanti lo riproporremo più avanti comunque tranquilli lo riproporremo detto questo passo la parola a Sara vi facciamo vedere i premi allora abbiamo scelto di fare tre premi quindi terzo secondo e primo posto per il terzo posto abbiamo due gettoni uno circolare e uno esagonale nel circolare purtroppo qui non si può vedere poi avrete tutta la lista nelle descrizioni avete il chrome cioè una resistenza al danno del 10% mentre quello esagonale è il bastone da passeggio del vecchietto di app quindi un oggetto aggiuntivo quindi questo per il terzo posto esatto mentre per il secondo aumentano allora abbiamo immediatamente un gettone esagonale raro come potete vedere dal contorno arancione e in questo caso abbiamo Dumbo aeroplanino premessa al primo video avevo fatto vedere questo gettone non è una macchinetta come pensavo però non è che dava idea bene giustamente Dumbo vola quindi è un aeroplano a forma di Dumbo questo è il tema tra l'altro è uno spettacolo da usare però se non capisci come guidarlo comincia a ribaltarti vuole è bellissimo poi il secondo gettone esagonale che io adoro anzi anche te adoriamolo veramente troppo è il gettone del cielo di Rapunzel bellissimo di notte con tutte queste lanterne che volano veramente un'atmosfera stupenda con la musica anche ci sono anche le musiche quando metti i cieli poi sì per dare l'atmosfera giustamente poi terzo gettone tondo circolare in questo caso abbiamo volto quindi da il 10% in più di danno e poi di nuovo abbiamo quella di prima al cromo quindi resistenza al 10% dei danni e il pezzo forte ovviamente è il primo posto che abbiamo scelto di regalare un personaggio di appunto Disney Infinity e indovinato un po' cricchetto sicuramente non lo vedrete perché siamo molto lontani cerchiamo di avvicinarlo eccolo qui cricchetto questo è il primo posto allora la scelta del primo secondo terzo posto è fatta scelta random sì penso che useremo il sito random.org quello proprio prenderemo tutti gli iscritti li metteremo lì e metteremo random il primo il secondo e il terzo sì quindi non dipende da noi anche se ci mandate i commenti che siamo bravi bravissimi non ci potete comprare vero? ci mandate i commenti che se facciamo schifo allora li ancora quelli proprio bannati a vita non vi calcoleremo più quindi appunto questi sono i premi ricapitoliamo per partecipare a questo giveaway mi raccomando iscrizione e commento con io partecipo o voglio partecipare insomma vedete voi noi dobbiamo capire che voi volete partecipare per chi è già iscritto invece basta solo il commento e basta poi detto ciò direi basta questo appunto di giveaway ah cosa importante appunto cioè se siete meno di 15 persone non lo faremo lo faremo più là comunque poi c'è tempo fino al 24 settembre quindi il 24 settembre no no aspetta il 24 no perché siamo da Warner hai ragione il 25 settembre faremo un altro video dove appunto daremo i risultati del giveaway se viene fatto e anche se non viene fatto insomma comunque non è che vi lasciamo con la tensione di ho fatto non hai fatto ho vinto non ho vinto ma poi lo potete vedere da solo se vedete da soli se vedete che ci sono più di 15 commenti allora vuol dire che partirà comunque noi avvertiremo sì sì assolutamente nel frattempo vi dico anche abbiamo creato la pagina facebook la pagina twitter e in più vi lascio anche qua sotto qui qui sotto o sopra no questa è un'altra cosa no questa è sotto era una citazione di un youtuber comunque vi lasciamo qui sotto in descrizione sia il canale facebook sia il canale twitter che la mail personale nostra per domande piuttosto che ci volete proporre qualche accettiamo anche consigli qualche video qualche rubrica nuova sai mi piacerebbe vedere una rubrica x una rubrica y dateci consigli noi abbiamo già una scaletta di rubriche video da fare gameplay eccetera eccetera però se voi volete vedere qualcosa di particolare ce lo proponete se noi riteniamo di avere le competenze adatte adatte lo faremo assolutamente si abbiamo letto tutto quindi ragazzi buon weekend divertitevi giocate e al prossimo video e iscrivetevi e commentate mi raccomando se no niente regalino e condividete anche ah si condividete spammate fate un po' quello che vuoi fate vedere la mamma la nonna fa la zia la cugina va bene a tutti e quanti ciao ragazzi ciao ciao